Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Il tema di oggi è Halloween e ho scelto questo tema per due motivi. Il primo chiaramente che ci stiamo avvicinando alla notte più paurosa dell'anno, al 31 ottobre, e la seconda è legata al fatto che ultimamente, in realtà non so perché, io e mio marito stiamo guardando diversi film e serie tv paurose, che per me insomma sono abbastanza terrificanti, e sto anche leggendo dei libri e ho letto dei libri che mi hanno tenuta molto sulle spine, mi hanno anche un po' impaurita, tanto che ultimamente è diventato difficile dormire serenamente la notte, perché sono sempre sul chi va là. Quindi ho pensato, ma perché tenere per me tutto questo terrore e non condividerlo con tutte le persone che guardano i miei video? E quindi visto che vi voglio bene, ho deciso di condividere con voi gli ultimi film e serie tv che ho visto a tematica horror, e anche dei titoli e dei libri adattissimi per Halloween e per questi ultimi giorni di ottobre. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Partiamo dai film. Il primo film che ti propongo e ti suggerisco, che ho visto qualche settimana fa, è Goodnight Mummy, un film con Naomi Watts come protagonista, come coprotagonista, insieme a due gemelli. La storia è quella di una madre che ha subito un intervento di plastica facciale, insomma, comunque un intervento al viso, e che quindi deve rimanere con il volto completamente coperto, praticamente per tutto il giorno. I due figli, dopo aver trascorso un po' di tempo insieme al padre, ritornano a casa della madre e, per l'appunto, la trovano completamente coperta. La madre comincia ad avere dei comportamenti bizzarri nei confronti dei due figli, dei due gemelli, in particolare nei confronti di uno. E i due bambini cominciano a insospettirsi che sotto quella maschera non si nasconda la loro vera madre, ma qualcun altro. La madre comincia ad avere dei comportamenti molto scostanti, a volte ha delle arrabbiature molto forti, quasi ingiustificate, e i figli addirittura la sentono parlare al telefono, parlare di finzione e quindi, insomma, tanti piccoli indizi che sembrano avvalorare la loro tesi. In realtà però vivono completamente isolati, come ovvio che sia in un film dell'orrore o comunque in un film di tensione, è un po' un thriller psicologico, un horror psicologico, e vivono completamente isolati, quindi non hanno la possibilità di chiedere aiuto. tentano di scappare ma vengono riportati a casa, quindi, insomma, sono praticamente costretti a condividere le loro settimane, le loro giornate con questa donna che non riescono a riconoscere. Bene, ovviamente non posso dirvi altro, è un film del 2014, come ho detto con Naomi Watts, un film che in realtà è un remake di un altro film con lo stesso nome, lo stesso titolo, realizzato e prodotto in Austria. Come ho detto, ho visto questo film qualche settimana fa e devo dire che sono rimasta in tensione praticamente tutto il tempo. Quindi c'è un finale a sorpresa, anzi, se lo guarderete, fatemi sapere qual è il momento esatto in cui avete capito qual era, diciamo, il mistero. Ecco, soltanto questo, non posso veramente dire altro. Però, insomma, in generale è un'atmosfera veramente molto soffocante, perché nonostante questi film vengono ambientati in case gigantesche, in realtà ci si sente completamente soffocati. Questo è il classico film che vi spinge a pensare qualcosa e a doverlo rivalutare completamente alla fine e dover quindi ripercorrere con la memoria tutto quello che è accaduto prima vedendo le varie scene con una nuova chiave, con la nuova consapevolezza. Inoltre, come è ovvio che sia, anche in questo caso le scene di maggior tensione sono ambientate di notte e secondo me, insomma, rendono veramente molto molto bene. Quindi è un film che vi consiglio di vedere durante questo periodo di attesa di Halloween. Se l'avete fatto, invece, fatemi sapere che cosa ne pensate. Il secondo film che vi suggerisco è The Conjuring, un film, credo si pronuncia così, un film del 2013 che racconta parte degli avvenimenti che hanno affrontato una coppia, marito e moglie, Ed e Lorraine Warren. Queste due persone sono realmente esistite, tanto che credo che Lorraine Warren sia morta davvero pochi anni fa e si tratta di due demonologi. In particolare, da quello che vediamo anche nel film, lei è una sensitiva e lavora insieme al marito per aiutare quelle persone che dicono di vivere in una casa infestata. Collaborano con la Chiesa Cattolica e loro praticamente hanno il compito di raccogliere delle prove, prima di tutto di capire se la storia che viene raccontata è vera e successivamente raccogliere le prove da presentare alla Chiesa per poi eventualmente effettuare gli esorcismi. Allora, partiamo dal presupposto che io non guardo i film sugli esorcismi perché mi fanno paura. Non ne ho mai visto uno, grazie al cielo, però sono cose che ho sentito raccontare da persone che conosco quindi mi fanno paura perché, diciamo, io credo che esistano ecco anche nella realtà, quindi insomma nel dubbio ho sempre paura. Però per l'appunto, non lo so, in un momento di baldanza ho dato retta a mio marito e abbiamo guardato il primo. Perché dico il primo? Perché ne esistono tre. C'è anche The Conjuring 2, il caso di Enfield, e The Conjuring 3, per Ordine del Diavolo, usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Vi posso dire, per il momento io ho visto i primi due. Il primo l'ho visto di pomeriggio, il che credo che abbia aiutato, diciamo, la mia mente a sopravvivere durante la notte, mentre il secondo l'ho visto, tipo, qualche giorno fa, la sera, ed è stato più traumatico sicuramente. Comunque, le varie storie raccontano episodi che hanno affrontato effettivamente Ed e Lorraine Warren durante la loro vita e, adattandoli in maniera, insomma, chiaramente cinematografica, hanno rimesso in scena quelle che sono state alcuni dei loro casi più famosi. Il primo, un film del 2013, raccontava la storia di una famiglia che si era trasferita in questa casa che poi scopre essere infestata. Quindi, con il tempo, riescono a entrare in contatto con questa coppia di demonologi e chiedono il loro aiuto per scacciare tutti gli spiriti che stanno infestando questa casa. Quindi, ok, vabbè, la storia è questa, non è che c'è molto altro da dire. Ovviamente, siamo in una situazione in cui ci sono rumori e movimenti sospetti, soprattutto durante la notte. All'inizio, sentiti e visti soltanto da alcuni membri della famiglia e poi sempre di più. Spendo due parole anche sul secondo film che ho visto proprio poche sere fa e che quindi è più impresso nella mia memoria. Allora, questo mi ha veramente terrorizzata perché è la storia. Siamo sempre una casa infestata, quindi, ok, il tema è sempre quello. Però, in questo caso, non so perché, gli spiriti mi terrorizzavano di più. Siamo sempre con una famiglia numerosa, tanti figli, una in particolare, viene scelta da questo spirito per essere impossessata e che quindi vive delle avventure veramente terribili durante la notte. Allora, anche qui le scene sono tutte di notte, tutti questi movimenti lenti, no? Che poi, ah, all'improvviso arriva qualcosa che ci spaventa, quindi io diciamo che l'ho vissuta un po' così. In più, ci sono delle scene in cui lo spirito, questo essere maligno, insomma, si vede e secondo me è stato rappresentato in maniera terrificante. Quindi, ero un pochino, anche lì, abbastanza terrorizzata. E in più, c'è il fatto che, come vi ho detto, io cerco di non guardare cose che sono accadute realmente e ovviamente mi ci sono ritrovata in mezzo. Alla fine del secondo film ci sono le registrazioni originali e le foto originali derivanti, insomma, dalle indagini di Ed e Lorraine Warren. Questo chiaramente ha aumentato enormemente il mio grado di panico. Quindi, se siete due persone che amano i film horror, secondo me questi due film, almeno i primi due che ho visto, sono fatti molto bene ed è poi interessante andare a ricercare quello che è successo nella realtà. Adesso direi di passare al terzo e ultimo, film, o meglio in questo caso una serie di TV che vi suggerisco a tema Halloween. La serie televisiva che vi suggerisco è The Watcher. Allora, in realtà, non sono la persona più adatta per consigliarvi questa serie perché ho visto una puntata. Magari quando voi vedrete questo video ne avrò viste di più, però per il momento ne ho viste una. Però mi sento di suggerirvela perché ha qualcosa di nuovo, quindi probabilmente la maggior parte di voi ancora non lo conosce. Ed è una serie. È una serie con Naomi Watts, di nuovo, e Bobby Cannavale che io amo alla follia e la loro famiglia. Quindi sono marito e moglie e si trasferiscono con i figli. Riescono a comprare questa casa gigantesca, enorme in questa cittadina. Cominciano a ricevere nel momento in cui si trasferiscono una sorta di lettere minatorie. Nel senso che in queste lettere viene scritto che c'è questo The Watcher, quindi l'osservatore, che li osserva sempre e continuamente, conosce i loro nomi, conosce le loro abitudini. Quindi sono lettere scritte a macchina che spaventano, non solo perché la famiglia si sente osservata, ma è anche minacciata. Perché appunto si parla di questo scantinato, di questa parte, insomma, bassa della casa che deve essere rimodernizzata, insomma, loro vorrebbero farci dei lavori, ma che in realtà dice nascondere un grande segreto, un terribile segreto e anche molto pericoloso. Ecco, in realtà non è che sappiamo più di tanto ancora nella prima puntata. Il fatto è che queste persone cominciano a guardarsi intorno per capire chi possa essere a mandare queste lettere e che si trova sempre vicino a casa loro ad osservarli. In realtà i sospettati sono tantissimi perché i loro vicini di casa sono veramente tutti molto strani. Hanno tutti uno sguardo sinistro e sono tutti in qualche maniera legati a questa casa. Quindi, insomma, diciamo che la prima puntata è sicuramente in grado di far salire il mistero, farci salire la curiosità e tenerci bene in tensione. Altra cosa che c'è da dire che forse voi forse penserete ma perché lo stai facendo è che anche questa serie è stata tratta da eventi realmente accaduti. Fatemi sapere se anche voi la state guardando. Parliamo adesso dei tre libri che vi suggerisco per Halloween. Vi parlerò di un libro che ho letto, un libro che sto leggendo e un libro che leggerò. Infatti, il primo libro che vi suggerisco è A casa prima di sera di Riley Sager. Questo libro l'ho letto ad Halloween dell'anno scorso e mi era piaciuto molto. La storia è quella di una donna che è cresciuta in una famiglia particolare. Suo padre ha raccontato in un libro di essere fuggito con la propria famiglia da una casa infestata quando lei era ancora una bambina. Lei però non ricorda niente di queste esperienze paranormali che il padre ha raccontato nel proprio libro e una volta cresciuta riceve in eredità proprio quella casa. Lei decide di trasferirsi lì per fare dei lavori e poterla poi vendere e staccarsi da questo passato legato appunto a questa esperienza della quale come ho detto lei non ricorda niente e in più aggiungo che lei non ha mai creduto a suo padre. Una volta arrivata nella casa chiaramente iniziano a succedere tante cose molto strane e molto terrificanti. Allora io devo dire che nonostante tutto quello che succede a questa protagonista sia non proprio scontato però insomma sia un po' quello che si vede sempre anche nei film dei quali vi ho parlato quando si vuole fare paura quindi musica che si accende la notte cose spostate lampadari che cadono bla 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 in realtà sono cose che funzionano quindi nonostante le abbiamo già viste in qualche film o in qualche libro se sono descritte bene fanno comunque paura e io devo dire che per la maggior parte del libro sono rimasta veramente terrorizzata inoltre ha un finale inaspettato perlomeno per me era completamente inaspettato quindi ve lo suggerisco se non l'avete letto l'anno scorso questa è la volta buona il secondo titolo che vi suggerisco è Dieci di Marine Carteron io ho i nomi degli autori proprio zero libro che è in lettura in questo momento come vedete sono circa a metà ma credo che in due o tre giorni lo finirò questo libro come capite dal nome si è ispirato a Dieci Piccoli Indiani e racconta la storia di dieci persone provenienti tutte da un liceo praticamente quindi la maggior parte sono ragazzi giovani e poi c'è anche qualche adulto che vengono ingaggiati per andare in questa casa sopra un'isola un isolotto per un reality quindi praticamente gli viene detto che appunto ci saranno telecamere ovunque che quello è un reality ci saranno delle prove da superare e chiaramente un vincitore ah ed è un reality a tema letterario infatti ogni personaggio ha la camera che con un nome associato a un'opera della letteratura quindi insomma tutti i personaggi per un motivo o per un altro decidono di accettare ma si capisce diciamo dagli indizi che vengono lasciati dall'autore che queste persone sono in realtà tutte collegate a un caso di suicidio avvenuto qualche tempo prima di una ragazza di questo liceo sembra che tutti in un modo o nell'altro abbiano avuto una parte in questa tragedia quindi io appunto lo sto leggendo non so come va a finire però mi è stato caldamente suggerito dal libraio della Giunti che mi ha detto insomma essere un libro che l'ha tenuto proprio sulle spine ed effettivamente è così in più ve lo suggerisco perché ha dei una sorta di capitoletti molto brevi che segnano sempre l'orario quindi andiamo in ordine cronologico ma cambiano punto di vista quindi vediamo i vari personaggi e devo dire che è una tecnica che tiene piuttosto incollate alle pagine un libro che si legge molto velocemente quindi niente se avete voglia di qualcosa che vi tenga sulle spine e vi è piaciuto 10 piccoli indiani perché non dare una possibilità anche a questo l'ultimo titolo che vi suggerisco non ce l'ho qui con me perché lo devo ancora leggere come vi ho detto ma lo leggerò sicuramente entro il 31 dicembre perché quel giorno faremo il nostro club del libro a tema Halloween e quindi questo è il titolo che dobbiamo leggere sto aspettando di prendere questo titolo da mia sorella che l'ha appena finito e sto parlando di Teddy credo che l'abbiate visto in giro perché è un libro che insomma l'uscita ha destato un po' di curiosità ecco questo sicuramente la storia è quella di Teddy appunto un bambino di 5 anni che ama disegnare lui ha un'amica immaginaria che vive sotto il suo letto e che lui insomma disegna molto spesso durante un'estate incontra la sua nuova babysitter una ragazza con la quale va subito molto d'accordo e che quindi viene assunta con il passare del tempo però i disegni del bambino cominciano a cambiare diventano più cupi e hanno dei tratti che difficilmente sono associabili a un bambino di quell'età tanto che il padre comincia ad insospettirsi e il bambino dice che è Ania questa sua questa sua amica immaginaria a dirgli che cosa disegnare questa grande linea è la trama ovviamente non vado oltre anche perché non mi voglio spoilerare niente però perché ho deciso di inserirlo perché ho sentito che è un libro che è piaciuto molto mia sorella come ho detto l'ha letto noi abbiamo gusti molto simili mi ha detto che gli è piaciuto e che me lo consiglia quindi non vedo l'ora davvero di iniziarlo ho pensato che appunto se avete gusti simili ai miei probabilmente piacerà anche a voi avrete voglia di leggerlo per questo Halloween bene ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto è stata una cosa un po' più una chiacchierata tra di noi ecco sui titoli del momento che mi hanno spaventata di più fatemi sapere se avete qualche suggerimento anche se non so se lo seguirò perché al momento sono veramente piena di cose che fanno paura quindi non mi voglio sovraccaricare in ogni caso voi scrivetemi perché sono sempre curiosa quindi niente io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo prestissimo in un altro video ciao ciao ciao